In questa storia, ognuno afferma che la propria versione dei fatti è quella che corrisponde alla verità. Ci dica, chi sta dicendo la verità? Io posso solo dirvi la mia verità. Tutto quello che ho detto si è verificato. Io ero certo che Figo volesse venire al Real. Tutte le persone coinvolte nell'operazione hanno tentato di convincermi. Sei milioni di euro di commissione. Sinceramente non so se qualcuno abbia firmato un precontratto. Io non ci credo. E poi gli ho chiesto, Luis, posso firmarlo? Mente. Lui mi ha risposto, puoi firmarlo. Così l'ho firmato. È una bugia. Aveva detto che non avrebbe mai indossato la maglia del Real Madrid. E il giorno dopo, eccolo che dice, forse, chissà. Ovviamente ho tentato di convincerlo a restare. Ero molto triste, non posso nasconderlo. Ho ricevuto molte minacce, molte pressioni, tanti... C'era un abisso. Era complicato. Quello che aveva tutto da perdere ero io. Non ho mai avuto dubbi. Ma è andata così. Alla fine quello che conta è il denaro.